Ciao a tutti, sono Stefano Masciarelli. Dopo anni di ruoli, personaggi, imitazioni, concerti, ultimamente anche di balli, mi sono accorto che il peso cominciava a diventare un vero problema. Cercavo qualcosa che mi aiutasse a mettermi in forma veramente e mi sono informato su giorno e notte, anzi sul sistema giorno e notte con fuco pure. Ho chiesto, mi sono documentato, ho conosciuto persone che insomma sono rimaste soddisfatti e sono qui per dirvi bene, ho deciso, oggi tocca a me. E sono sicuro che con un pizzico di volontà e un po' più di attenzione a tavola raggiungerò i miei obiettivi, che sono sicuro sono anche i tuoi. Che dici, cominciamo insieme? Telefona per informazioni a questo numero e ci rivedremo presto per misurare i nostri successi. Insieme. Grazie. Grazie.